Don Carlo Bellini, vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Carpi, ha commentato anche il catalogo della mostra di Andrea Saltini, Grazia Plena. Con quale spirito la Chiesa di Carpi si è avvicinata a questa esperienza? In giugno del 2023 Papa Francesco ha fatto un documento sugli artisti, rivolto agli artisti ed è stato un documento accolto molto bene che ha ispirato tanto gli artisti del contemporaneo e gli ha chiesto di aiutarci a esprimere la spiritualità della vita dell'uomo. Allora anche noi come Diocesi di Carpi abbiamo avuto, approfittando anche di questa proposta di Andrea Saltini, fare questo lavoro di offrire ad Andrea la possibilità di fare qui un'esposizione che a partire dalla sua visione del Vangelo e della spiritualità ci dicesse qualche cosa e io credo che sia veramente molto interessante perché questo credo lo sia lo spirito che ci chiedeva anche il Papa, che chiedeva il Papa all'arte contemporanea di ridarci la nostra tradizione in una maniera, in un modo da poterla riflettere, da farla diventare nuova, da farla diventare contemporanea e le opere di Saltini fanno proprio questo. Possono anche sorprendere, possono anche turbare da un certo punto di vista, però ci rimandano la nostra tradizione in modo che possa diventare nuova e fresca oggi. Sempre il Papa dice che l'arte come la fede deve inquietare, deve interrogare, deve smuovere qualcosa dentro, quindi anche il visitatore che entrerà qua, secondo te, può essere smosso, anche porsi qualche interrogativo. Sicuramente il visitatore cattolico, o meglio il visitatore che ha una tradizione cattolica e conosce le scritture, qui viene sicuramente smosso. E penso che il gioco da fare in questa esposizione è quello di prendere il titolo, prendere l'opera e vedere che cosa suscita in te. Cosa suscita in te di nuovo, non tanto cercare di capire cosa ha voluto fare l'artista, ma vedere che cosa suscita in te a partire dalle tue narrazioni, dai tuoi ricordi, dalle tue fantasie anche, che cosa quella parola ti dice a partire dal testo del quadro e quindi rinnovando, reinterpretando quello che già sappiamo. Quindi in realtà è un lavoro di interpretazione e credo proprio che ognuno potrà su molti quadri trovare cose diverse, come anche con Andrea abbiamo fatto, insomma, rileggendo e riguardando i suoi quadri. Sono quadri che si espongono, si espongono a diversi tipi di lettura, ma tutti molto interessanti.